...villano e che poi sabato prossimo 25 di settembre dalle ore 17 trasmetteremo dalla chiesa di Sant'Anna e Gioacchino la celebrazione liturgico fidanzo. Ed eccolo il sangue di San Gennaro che fa il suo ingresso solenne nella palatta centrale del Duomo di Napoli attendiamo con ansia quel che succederà e ci uiamo. Il sangue si è sciuto. Il sangue si è sciuto. E' la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discenda su. Il sangue si è sciuto. 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 Il sangue si è sciuto.